ANSA, Roma, 18-8, sarà il nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone, inaugurato lo scorso 28 settembre, ad ospitare l'amichevole tra la nazionale Unger 21, e i pari età della Russia in programma martedì 14 novembre alle 18.30. Lo annuncia la FID con un comunicato. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio, che torneranno a giocare a Frosinone ad 11 anni esatti dall'amichevole con la Repubblica Ceca, si giocò al Matusa e finì 0-0, sono reduci dai successi nelle amichevoli con Slovenia, Ungheria e Marocco, seguiti alla sconfitta subita in Spagna il 1 settembre.